Un po' tosta, perché c'è l'unza di scendi, poi anche metto al grano, su e giù le scale del mulino, però bella. E il vento mi ha dato una mano? Un po' alla fine, un po' alla fine, è dato fastidio. Comunque è bella, bella, bella. Bello anche questo senso che avete comunque di collaborazione e di... Sappiamo comunque cosa fa lei, tra di noi ci sappiamo. Sappiamo quello che facciamo. Di che società siete? Io Budi smicasseggio. Io ho team 2.5.